Nuova vita alla Dogana ma anche al centro storico di Avellino. Da questa mattina, dopo dieci anni, l'area antistante e l'antica struttura, Piazza Mendola, è stata liberata dalle transenne. Esultano i commercianti della zona ma anche i promotori del comitato che per anni hanno lottato per la riqualificazione della Dogana. Vedere questa piazza libera che è così grande, così importante per noi è un passo enorme, grandissimo e ora verrà la fase successiva, la fase del recupero, dell'intervento. Ma noi come sempre lavoriamo passo dopo passo perché in modo tale da godere anche della gioia del passo che abbiamo fatto. Noi continuiamo sempre con la stessa testardaggine, da dieci anni stiamo facendo questo e insieme a tutti quanti, naturalmente, gli altri componenti del comitato, ai commercianti, a tutta la gente che ama profondamente questa città. Un bel giorno per tutti, per i commercianti, per i residenti, per tutta la città, anche persone che non abitano in questo luogo, ci domandano a noi commercianti come mai fosse ancora in questo stato. Adesso oggi è un giorno di festa, un giorno piacevole, ma non ci fermiamo qui, chiederemo anche altre cose, sempre migliorative e propositive. Dopo tanti anni, finalmente, è come stare chiusa in un tunnel e vedere la prima luce. Per noi questo è tanto, anche perché è una svolta soprattutto per la città, ma per noi commercianti ne avevamo proprio bisogno. Si riparte dalla Dogana? Sì, dalla Dogana, dal centro di Avellino, perché il centro di Avellino è il centro storico.